Il terzo e il quinto posto si preparano, para posto di Stefano, Fuso, Badia. Si preparano gli atleti della classe Union che spinino a 100 kg a 3.2. Si preparano per l'anno, leonardo, piani, gambe. Ficca attento, attenso. Finale del terzo posto, signores Maschini, 90 kg per l'anno. Per la vostra stessa cintura rossa, bisogna Mattia Cinturagliano. Attenzione!